Il famoso Hard Rock Café di recente ha festeggiato i 50 anni, ha spento le 50 candeline, il primo store fu aperto a Londra, 50 anni non sono, era infatti in 1971, questo brand si è affermato in circa 239 paesi, o meglio in 68 paesi e 239-246 in totale. 86.000 gadget presenti e pensate che per festeggiare questi 50 anni Hard Rock Café ha scelto proprio Lionel Messi, il famoso giocatore di calcio, come ambasciatore nel mondo. Una scelta oculata, una scelta buona, una scelta piacevole, quella di scegliere di optare per Lionel o Lionel Messi come, per l'appunto, rappresentante, come ambasciatore più che valido nel mondo, per festeggiare i 50 anni, quindi le 50 candeline che di recente vengono ad essere spette proprio dall'Hard Rock Café. 50 anni portati magnificamente, 50 anni portati bene, 50 anni di puro fascino, di puro piacere, dove veramente questo Hard Rock Café non è passato, di certo, inosservato. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, cari clienti di YouTube, iscrivetevi al canale Nandato Italiano, commentatevi, un saluto nei cari, al prossimo video.